Dopo due vittorie consecutive, il Gallo vuole continuare a gonfiare il petto prima di cantare altri tre punti. I tre successi raccolti negli ultimi quattro turni, il ritorno al bianco e la vittoria maturata a sorpresa in occasione del derby con il Nardò, hanno acceso notevolmente l'entusiasmo in una piazza mai doma neanche da ultima classificata. Una squadra, quella ereditata da mister Cavallaro, che in molti davano erroneamente già fuori dai giochi anzitempo. Nel giro di poche settimane, complice anche la rivoluzione della Rosa, sono arrivati risultati soddisfacenti e prestazioni più che all'altezza. Appena tre le sconfitte negli ultimi otto turni, ma adesso è arrivato il momento di tirarsi fuori dalla zona play-out. Il dodicesimo posto, ossia l'ultima casella di campo disponibile per raggiungere la salvezza diretta, dista soltanto un punto ed è presidiata da un Barletta a sua volta apparentemente resuscitato. Le prossime tre giornate saranno fondamentali per capire se il mantenimento della categoria sarà materia argomentabile per i Salentini, che affronteranno in rapida successione Manfredonia, Bitonto e Rotonda. In casa dei Sipontini si giocherà regolarmente domenica e senza tifosi. Il sentore di un possibile rinvio è stato presto scongiurato dalla mancata volontà del club biancazzurro di giocare due partite in una settimana. Si scenderà dunque in campo senza falbo, impegnato in rappresentativa Serie D in un miramare deserto con in palio tre punti pesanti. Il Gallipoli proverà a riscattare non soltanto la sconfitta del precedente di andata, ma anche la finale dei play-off di eccellenza dello scorso 21 maggio, una gara quella decisa ai calci di rigore e che si giocò al curlo di Fasano, impianto in cui, ironia della sorte, nessuna delle due è riuscita ad imporsi in questo campionato di Serie D contro i reali padroni di casa. Grazie a tutti.